Lo ha avvicinato con la scusa di una sigaretta, la vittima gliela data, ma il giovane ha continuato a seguirlo, poi lo ha aggredito. Sono stati attimi di paura quelli vissuti in pieno centro a Fano da un 62enne di Chiaravalle. I fatti risalgono al 22 luglio scorso, era da poco passata la mezzanotte, quando l'uomo, dopo una serata trascorsa con gli amici in piazza Andrea Costa, ha deciso di ripartire passando per via Fruncini. All'altezza del Conad è stato raggiunto da un ragazzo nigeriano che, dopo averlo seguito, lo ha stretto verso una zona poco illuminata, in corrispondenza di un cantiere edile. Qui gli ha intimato di consegnargli il portafogli e lo ha strattonato dalla maglietta, strappandone in più punti, poi lo ha aggredito con un oggetto contundente. Il 62enne si è difeso coprendosi il volto con le braccia, ma è stato scaraventato a terra e privato del portafogli che aveva nella tasca dei pantaloni. All'interno c'erano i documenti, il banco, ma che 40 euro in contanti, l'uomo, una volta medicato sul posto dai sanitari del 118, non ha avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso, ma nel frattempo un testimone, seduto sulla scalinata dell'ex chiesa di San Francesco, ha lanciato l'allarme ai carabinieri. Grazie a questa segnalazione, i militari hanno rinvenuto nella stessa via un collo di bottiglie in vetro rotto, ritenuto l'oggetto usato durante l'aggressione, e si sono messi subito sulle tracce del giovane. L'acquisizione delle immagini sia dall'impianto di videosorveglianza comunale, che da alcuni sistemi privati, ha permesso ai carabinieri di dare una fisionomia, ricercato e di ricostruire la via di fuga. L'epilogo si è avuto sabato mattina, quando il ragazzo, un 27enne, è stato intercettato in via Montevecchio, ma la vista della pattuglia si è direguato a piedi. Sono stati quindi chiamati rinforzi e il nigeriano, visto al pincio, ha tentato nuovamente la fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. Il giovane, che era vestito con gli stessi indumenti immortalati dalle telecamere, è risultato irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Ha già dei precedenti e a suo carico ci sono due ordini di espulsione mai ottemperati. È stato quindi portato nel carcere di Pesero e questa mattina è stato convalidato il fermo. Dovrà rispondere di rapina aggravata. Grazie a tutti.